Grazie a tutti Ecco, vedete come ho fatto il poll del video contest, quello lì che ho fatto per Shark Game. Non so, mi piaceva particolarmente quel poll, era divertente, era figo, guardate, guardate, ce la faccia figa. Mi piaceva particolarmente, diciamo come pixel art non è il massimo, però mi piace ottenere che nel mondo è carino come poll, quindi lo tengo. Ecco, anche se questo qua è forse un po' più grande, va bene, va bene, va bene, comunque non sono qui per questo, per parlare di pixel art, ma sono qui per augurarvi a tutti buon Natale. Beh ragazzi, davvero buon Natale a tutti, sono contento di che mi state seguendo e mi state dando supporto a tutti quanti. E davvero vi auguro un buon Natale, spero che passate queste feste felici, siete in vacanza, non so, come volete voi. E davvero grazie a tutti e faccio un augurio a tutti quanti e niente, semmai perché devo andare in vacanza, andate pure, godetevi le vacanze, ci risentiamo dopo, semmai non fa niente, sono sempre qui a sfornare video. Di Minecraft e Super Meat Boy, fino a quando mi chiudono il canale, ok, comunque, comunque, ho aggiunto questo pollo, ho modificato un po' il molo, ho messo questi scalini e questi cosi qua, qua, questi, qui, ehm, niente, ehm, faccio un augurio, avevo detto, un abbraccio forte a tutti, ehm, perché dico sempre, ehm, ehm, mannaggia. Qua devo aggiungere una stradina, guardate, devo collegare, comunque so che non ho fatto il contest dei, il contest di Natalizio, però, ho avuto problemi, ho avuto i soldi problemi, poi vi spiego, poi vi spiego. Eh, non so adesso, dopo questo video riesco a registrare qualcosa, mi piacerebbe sinceramente registrare un altro episodio di Golf Tendo Simparo, che comunque è la mia serie principale. Ehm, non vorrei abbandonarla così, perché non l'abbandono però, perché, perché, voglio e vorrei continuarla sul serio, ehm, vorrei portarmi, anzi più che continuarla, vorrei portarmi il più avanti possibile. Ok, 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 perché faccio guai oggi? Mettiamo questo blocco, ehm, ho detto, mi dispiace che non ho fatto niente di che per il contest, per lo speciale Natale qua, però, ho già detto che non potevo fare un contest, ehm, niente, ve l'ho detto, già ve l'ho già detto, buon Natale a tutti, ehm, anzi no, la domanda ve la faccio a fine video, ho intenzione di, di, di farmi una domanda a fine video, comunque, ehm, per chi, per chi, per chi, per cosa stavo dicendo? Che mi sono dimenticato, ah sì, comunque ragazzi, a breve avrò un nuovo computer, non so tra quando, potrebbe essere, diciamo, potrebbe essere un mese, potrebbe essere due settimane, due, tre settimane, non lo so, dipende, comunque mi, mi sono, mi so fatto, mi, mi assemblo, ma oggi non riesco a parlare, mi assemble un nuovo computer, e, da gaming tutto potente, eccetera, eccetera, quindi posso, posso fare video di Minecraft video di altri giochi, senza problemi, e il rendering ci mette, cioè, molto, molto, molto di meno, non spero di una giornata a renderizzare almeno dovrei a caricare non credo che è molto lenta la mia connessione anche se ultimamente sono dei problemi quindi mi dispiace perché non riesco a parlare alcune volte con voi questo è comunque spero che voi state in vacanza non spero che voi state davanti al computer a fissare lo scherzo spero che siete divertenti mi state scartando tutti i regali come dei mi serve un paragone mi serve un paragone oddio non mi viene vabbè poi lo penserò lo penserò a tu nel frattempo che penso qua che parlo faccio la stradina perché prima o poi dovrò fare e niente vi auguro sul serio buon Natale a tutti e vi lascio con cavista domanda a voi voi che siete guardando questo video cosa ha portato Babbo Natale rispondetemi con un video rispondete con un commento qui sotto poi se volete anche un video risposto così tanto per e già che siamo in di manata lì dai sfruttiamo questo questo tema sto pensando come diavolo faccio a far arrivare quella stradina fino alla alla fuori la oddio perché nel mio mondo nell'altro mondo non riesco a fare contro e fallo giù vabbè lasciamo stare lasciamo stare se non può vero sfigato se non può vero sfigato comunque carciofini passate un bel Natale e ci risentiamo dopo le feste anzi no veramente mi faccio sentire anche nelle feste specialmente nelle feste carico più video possibili e buon Natale ancora se l'ho detto mille volte però non so sinceramente cosa dire e ciao ciao ciao